Derby Gherardaccia-Trestina, vinto dalla Gherardaccia per 3-1, che partite hai visto? Ho visto una partita tirata tra vecchi compagni di squadra, all'inizio loro hanno sbagliato molto, molte battute, molti errori in ricezione, noi abbiamo approfittato e siamo andati avanti. Adesso, con tutto che vi preparate? La prossima partita in casa contro il Torziano, una bella squadra dicono che sia. Una bella squadra, il Trestina ha perso tra uno, noi abbiamo vinto tra uno col Trestina, cercheremo di fare meglio il meglio possibile. Ciao Luca! Un complimento per il muro a una mano al Giando. Va bene, grande! Autocomplimento! Vabbò, ti saluto, ciao! Ciao ciao!